L'ospedale nuovo significa una sanità migliore per tutto il territorio, è un treno che non possiamo permetterci di perdere. Nel dibattito sul nuovo ospedale sono intervenuti per la prima volta anche medici e operatori sanitari del Mazzini di Teramo, che dopo essersi riuniti in un comitato spontaneo hanno voluto sottolineare l'importanza di avere un nuovo nosocomio adeguato alle esigenze attuali della sanità. Diciamo che alcuni medici dell'ospedale hanno deciso di portare al di fuori della struttura quelli che sono i discorsi che noi abitualmente facciamo durante le pause, durante la consulenza o nelle corsie di reparto. Cioè il nostro timore è quello che tutte le problematiche che ruotano intorno alla nascita del nuovo ospedale stiano prendendo un po' il posto di quella che è l'importanza di avere un nuovo ospedale. Perché il Mazzini quando è nato negli anni 70 era un fiore all'occhiello, è stata una struttura che ha richiamato pazienti da tutto Abruzzo e anche da fuori ed è una struttura che adesso con quelle che sono state le emergenze, sia il terremoto che poi la pandemia ha mostrato tutte le sue carenze. Carenze che sono normali di una struttura che ormai ha 40 anni. Noi oggi abbiamo la possibilità di mettere tecnologie completamente nuove che non erano immaginabili all'epoca in cui il Mazzini è stato progettato e non dobbiamo perdere di vista che l'ospedale nuovo deve essere un obiettivo comune. Al di là delle differenze e al di là delle visioni diverse. Ovviamente un altro argomento al centro della discussione è quella della location. Ma diciamo che il comitato non si è interessato di questo aspetto qui. Noi siamo medici, non siamo politici e non siamo tecnici da questo punto di vista. Noi dobbiamo semplicemente riportare al centro della discussione l'importanza dell'ospedale nuovo. La sede per noi non è fondamentale. Altro argomento sono le tempistiche. Bisogna accelerare questo ITER? Sì, perché poi alla fine se noi ci disperdiamo in tanti ragionamenti che sono assolutamente importanti, perché io mi rendo conto che decidere la sede è fondamentale per partire con un progetto, però attenzione, remiamo tutti nella stessa parte. Perché se noi ci disperdiamo in questi ragionamenti, poi il rischio è che la cosa non nasce e non si fa. E questa sarebbe una grave perdita per Teramo, ma io dico per tutto l'Abruzzo.